Musica Bentornati in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino che questa sera vede ospite il sindaco di Senigallia Massimo Rivetti Buonasera e bentornato nei nostri studi sindaco Buonasera, buonasera a tutti Potete intervenire in diretta come sempre telefonando allo 0721 86 14 33 Oppure potete inviarci un messaggio su whatsapp al 338 4968 250 Mi raccomando dei brevi messaggi di testo Già ci sono arrivate alcune domande per lei Ma vorrei partire sindaco con una delle notizie che abbiamo dato nel corso del telegiornale Perché questa mattina insieme al suo collega Di Mondolfo e all'assessore Baldelli L'assessore regionale avete eseguito un sopralluogo per il ponte ciclopedonale sul fiume Cesano Vediamo qua le foto relative a questo incontro Un'opera attesa da tanto tempo e che andrà a mettere in sicurezza non solo Pedoni e ciclisti che erano costretti a passare Sono anche oggi costretti a passare sulla Statale 16 Ma appunto anche un bel collegamento tra due province Sì, indubbiamente è un momento molto particolare È stato oggi Il ponte era atteso da molto tempo Oggi sono stati consegnati il cantiere È stato consegnato il cantiere alla detta che poi lo realizzerà È un'opportunità sia per Senigalli che per Mondolfo Perché appunto, come lei diceva, c'è la possibilità appunto di avvicinarci Soprattutto con quello che è il turismo cosiddetto lento Quindi ciclistico e pedonale Quando potrà essere pronta quest'opera, hanno dato delle tempistiche? 400 giorni da oggi Quindi praticamente sono abbastanza precisi Quindi il prossimo anno intorno a giugno Intervento a carico della Regione? Interamente? Interamente a carico della Regione Rientra all'interno di quello che è il progetto della ciclovia adriatica Per quanto ci riguarda Senigallia Ce l'ha quasi definita fino verso il Cesano Quindi dovremmo solamente collegarlo dall'uscita del Cesano Fino alla frazione Adesso invece torniamo a parlare purtroppo Dell'alluvione che ha colpito pesantemente anche il Comune di Senigallia Lo scorso settembre Qual è la stima dei danni e quanto il Comune aveva dovuto anticipare Per gli interventi di somma ruggenza? La situazione come è noto Anche perché eravamo un po' in tutta Italia conosciuta È stata una situazione molto disastrosa È stato un evento veramente catastrofico Che non potevamo neanche immaginare I danni sono molto consistenti per la nostra città Perché noi abbiamo dovuto esporci Da un punto di vista economico per circa 9 milioni Come anticipo e bilancio Abbiamo cercato di far fronte a quelle che erano le esigenze dei cittadini Nell'immediatezza Dall'altra parte i danni si contano oltre 70-80 milioni di euro Quindi in questo momento siamo abbastanza avanti Grazie alla Regione e soprattutto all'interlocuzione col Governo centrale Stiamo distribuendo quello che è il contributo autonomo di sistemazione Perché abbiamo ancora circa 200 famiglie fuori casa E dall'altra parte, altra cosa molto importante Cominciamo a distribuire quello che è l'anticipo I 5 mila euro per le famiglie E 20 mila euro per le aziende Contiamo per metà maggio Di cominciare a distribuire gran parte degli importi Poi il resto a fine luglio Ha sentito anche sui concittadini Quali difficoltà ancora stanno riscontrando? Le difficoltà sono di due natura La prima, che è la più consistente E che per quanto riguarda questi aiuti Prevedono che ci sia una documentazione fiscale Quindi praticamente che i lavori siano fatti Molte delle case non riescono a farli Perché ancora, essendo avvenuto l'evento a settembre L'umidità non ci permette Non ha permesso di poter far asciugare le case Quindi si aspetta a luglio poter fare i lavori E altra il reperimento delle imprese stesse Quindi questo è il primo grosso problema Il secondo è quello di un'asta fluviale Che è molto caratteristica La nostra città viene attraversata questo fiume È stata purtroppo costruita molto e tanto Intorno alla stessa asta Per cui la pulizia dell'alveo diventa fondamentale Noi stiamo interloquendo con la regione Affinché questa avvenga il prima possibile Si è parlato di vasche di espansione Per cercare di risolvere parte dei problemi Sì, questa è una delle soluzioni C'era una vasca che era in fase di realizzazione In questo momento è stato dato un incarico a due università Per poter approfondire quelle che potrebbero essere le soluzioni Si parla anche di aree di laminazione Cioè di luoghi in cui la campagna può essere invasa dall'acqua In modo tale che non arrivi all'interno dei centri abitati Stanno anche cercando di vedere Se ci possono essere la possibilità di realizzare O dei fossi di scolmata Quindi le strutture che possano portare l'acqua al mare Ma Senigallia ha un problema Nel senso che è stata concepita come completamente urbanizzata Sulla costa e non ci sono grossi spazi Ma anche dall'altra parte la possibilità E questo magari speriamo di poter intercettare Finanziamenti nell'ambito dell'unità di crisi per la siccità Cioè dei bacini appunto di raccolta delle acque Sono tutti escamotage che potrebbero evitarci che l'acqua arrivi all'interno del centro abitato Si era parlato anche di un nuovo sistema di allertamento per il Misa e il Nevola Poi si farà? Sì, la protezione civile nazionale lo sta studiando Noi per quanto riguarda la nostra città abbiamo già dato in carico Nella rivisitazione dopo l'ultimo evento di quello che è il piano di protezione civile Credo che quest'anno come abbiamo fatto anche l'anno scorso Prima dell'evento proveremo anche delle esercitazioni In modo tale appunto che Da essere sempre abbastanza pronti su eventi negativi come questo Ci sono altri interventi di somma urgenza che non sono stati sistemati, risolti? Beh, in questo momento l'evento più importante è il ponte all'interno del centro della città di Senigalli Che divide esattamente Senigalli in due parti Così come il ponte in una frazione nel primo entroterra che è appunto quello del Vallone Sono due punti che noi speriamo vengano fatte quanto prima C'è stato un incontro con il Consorzio di Bonifica per realizzare all'inizio una passerella ciclopedonale All'interno della città ma noi speriamo appunto che per quanto riguarda la protezione civile Sia pronta anche nel dare incarico a quello che è l'ANAS per la realizzazione delle due infrastrutture Tante persone, veramente migliaia penso, si sono adoperate in quei giorni Per cercare di aiutare chi era in difficoltà senigallesi Ma anche tanti volontari provenienti da fuori comune, da fuori regione Anche le forze dell'ordine hanno avuto protezione civile Insomma l'elenco sarebbe davvero lungo Hanno avuto un ruolo fondamentale E proprio di pochi giorni fa la foto che adesso vi facciamo vedere Perché lei ha voluto dare un riconoscimento all'arme non solo Ma intanto partiamo dalle foto Ecco qua, un riconoscimento dovuto Sì, questo è con il comandante provinciale dell'arma dei Carabinieri Ma qualche settimana prima avevamo fatto un incontro Perché in comune non era possibile poi ospitarli tutti Con i rappresentanti delle forze dell'ordine Ma anche appunto i volontari che erano venuti a Senigallia Oltre quasi 800 persone È stata molto seguita È stato un momento anche particolarmente commovente Dovremmo avere le foto, eccolo qua Al Teatro della Fenice Esatto, questo è stato fatto al Teatro della Fenice qualche giorno prima Era giusto che il territorio appunto ringraziasse coloro Che anche da lontano erano venuti a darci una mano E abbiamo visto proprio anche nei giorni scorsi Nel nostro Tg che un'associazione di fano Il Paese dei Balocchi Ma non solo, associazioni tra le note Appunto hanno consegnato parte dei proventi Di una canzone scritta insieme a Bungaro e ai bambini A un asilo di Senigallia Ma anche la Croce Rossa Quindi c'è stata una sinergia Un sostegno, un supporto Da parte di tantissime realtà Suppongo Sì, la solidarietà L'andata alla solidarietà è stata estremamente importante Un altro argomento importante Sindaco, il bilancio Abbiamo visto i rincari generalizzati Il caro bollette Questo quanto ha pesato in più sul bilancio? Ma noi diciamo che c'eravamo molto spaventati all'inizio Perché avremmo dovuto reperire molto denaro liquido Siamo riusciti attraverso un'opera che avevamo iniziato già dall'anno scorso Che era quella del recupero dell'evasione fiscale E ammortizzarlo molto Tant'è che con una certa tranquillità e serenità Possiamo dire che a livello di bilancio Non abbiamo, nonostante questi grossi rincari Non abbiamo fatto poi pesare nulla a carico dei cittadini Speriamo appunto che questa sia un'emergenza Anche questa che possa passare presto Le indicazioni a livello nazionale sembrano portarci a questo E questo certamente c'è una grossa fiducia nel futuro Infatti inizialmente si parlava su 3 milioni di euro in più Per Senigallia parlavamo di 3 milioni Tant'è che al di là di quello che era il recupero dell'evasione Abbiamo cominciato a pensare anche a degli interventi un po' più importanti Io stesso sono andato a Roma più volte Cercando di far modificare una norma che vale a livello nazionale Che è quella di tenere le luci tutte accese Senza la possibilità di accendere una sì e una no Però ribadisco non c'è stato bisogno quindi il posto Vado a leggere i primi messaggi Poi parleremo anche del terremoto Delle opere pubbliche E di tanti altri argomenti I primi riguardano gli asfalti A quando l'asfaltatura di Via Po diventa molto pericoloso Ci scrivono ogni volta che piove Buche e smuottamenti anche in Via Fiorini E poi potete chiedere al sindaco Quando l'ANNAS asfalterà il tratto della statale In zona Cesanella fino alla Copp Perché è rimasto il peggior tratto Nel territorio di Senigallia Quanto meno l'amministrazione potrebbe sollecitare un intervento Allora, ricomincio alla seconda Per quanto riguarda l'asfaltatura Che va dalla Copp Quindi praticamente dal ponte del Cesano Fino alla zona della Cesanella Questo verrà svolto direttamente dal comune di Senigallia Abbiamo Investiremo circa 700 mila euro Per quanto riguarda la nuova asfaltatura E la creazione di una rotatoria Che intercetta strada alla marina Che serve praticamente per poter poi andare Sulla complanare Quindi sulla strada che gira la città Questo dovrebbe avvenire nel mese di giugno Avevamo previsto verso maggio Ma in realtà poi ci hanno detto Di poter intervenire in quel periodo Nel periodo notturno Per quanto riguarda le altre asfaltature Via Po e Via Fiorini Via Po e Via Fiorini Sono sempre nel nostro elenco Seguiranno dopo che avremo sistemato Una parte via corinaldese Che viene sistemata adesso Per quanto riguarda altre zone In Senigallia al sud Quindi io ritengo che verso settembre-ottobre Potremo essere pronti per poter partire O terminare quelle zone Ci hanno scritto anche Questa benedetta rotatoria nella frazione di Brugnetto Non aspettiamo il morto la scorsa settimana Siamo arrivati molto vicino Evidentemente è successo qualcosa Brugnetto è un'intersezione estremamente negativa Sulla corinaldese Noi ci siamo impegnati Dicendo di proprietà della strada provinciale Abbiamo proposto alla provincia di Ancona Di realizzarlo a spese nostre Sulla base di un bilancio Che mette già pronta Come somma pronta 350 mila euro L'interlocuzione è ancora aperta Lì c'era un problema con la provincia Che intendeva spostare la corinaldese Verso il fiume Ma soprattutto dopo gli ultimi eventi Credo che quel tipo di operazione non si faccia più Quindi spero vivamente Di poter definire al più presto Con la provincia questo aspetto Adesso parliamo invece del terremoto Diverse case erano state dichiarate inagibili Tre le chiese che erano state danneggiate Ad oggi qual è la situazione? Abbiamo una famiglia sfollata Abbiamo tre chiese Soprattutto il Duomo chiuso A seguito di questi eventi La situazione certamente per Senigallia È meno grave rispetto a quello che è il problema Dell'alluvione Tenga conto le ribelli Abbiamo quasi 200 famiglie fuori casa Ancora per quanto riguarda l'evento alluvionale Stiamo adesso interloquendo con Roma Abbiamo visto appunto quella che era lo stato d'emergenza Anche per quell'evento Che è stato deliberato quindi Sì è stato deliberato E spero vivamente appunto di poter rientrare Anche come nell'altro caso Che si possa appunto dare risposta a questi cittadini Altro grande capitolo Il PNRR Siete riusciti ad attingere questi fondi importanti Se sì per quali progetti? Dunque Senigallia ha intercettato circa 38 milioni di euro per PNRR La cosa più importante che noi puntiamo È il recupero di alcuni palazzi centrali Come Palazzo Gerardi Che è quello che vedete lungo i portici È la sede di un vecchio liceo Dovrebbe essere recuperato come sede soprattutto museale Poi contestualmente avremo anche il recupero di Pionono Che è un altro palazzo molto importante Sotto il passo che collegherà la Rocca con il lungomare Il rifacimento di parte del lungomare Abbiamo quattro scuole che stiamo rifacendo Al momento non voglio essere troppo ottimista Però siamo nei tempi Stiamo seguendo esattamente quelli che sono i tempi che ci sono stati dati Quindi speriamo bene nel terminare questi lavori Che tipo di lavori nelle scuole? Di efficientamento energetico piuttosto che dal punto di vista sismico, strutturale? Senigallia quando noi siamo stati eletti aveva diverse scuole Molte scuole che non avevano requisiti da un punto di vista di normativa sismica Quindi abbiamo delle scuole che erano chiuse Ad esempio la Puccini per la quale abbiamo reperito un finanziamento di 2 milioni e mezzo Ce ne erano altre che dovevano essere appunto messe a norma E questi sono gli interventi principali Soprattutto nella zona della Cesanella Ci sono sia una scuola a 0-6 anni che una scuola elementare E poi un'altra a Marzocca Le chiedono chi non riesce a rientrare in casa è il CAS Che non è ancora attivato e deve lasciare l'appartamento a fine maggio Dove andrà? Questo è un grosso problema che noi stiamo ponendo soprattutto al commissario Senigallia è una città particolare rispetto a quello che può essere accaduto Nelle città terremotate del sud delle Marche Cioè Senigallia ha un problema per quanto riguarda le abitazioni Che credo sia uguale a quello delle città costiere sia Marotta o anche Fano Per cui gran parte delle case che sono vuote durante l'inverno Poi d'estate vengono affittate dai turisti E questo ovviamente con i nostri concittadini che si sono allontanati dalle case Diventa un grosso problema La Regione ci ha detto che ci darà una mano soprattutto nell'ambito della normativa Certamente come Comune cercheremo di risolvere il problema prima che questo avverrà Sanità, Palazzine delle Emergenze Anche qui un importante annuncio da parte della Regione È stata affidata alla progettazione C'è stato un sopralluogo Credete che sia risolutivo dal punto di vista dei servizi? Senigallia era l'ospedale nell'area vasta 2 Cioè oggi chiamiamo zona territoriale che riguarda praticamente Iesi e Fabriano E Ancona con la struttura muraria più vetusta Che risaliva anche a quasi un secolo fa Per cui era necessaria che la palazzina diventasse per le emergenze Soprattutto in una città che ha 45 mila abitanti ma che d'estate triplica la sua utenza Avesse appunto una struttura dell'emergenza estremamente all'avanguardia Diventa essenziale per la nostra città E per questo che siamo stati molto contenti Quando l'assessore Baldelli ha deciso appunto di investire nel nostro territorio Invece medici di base c'è una carenza anche del personale sanitario? Si sente? Ma questo credo sia un problema atavico che riguarda un po' tutta l'Italia E riguarda anche il nostro territorio Il vantaggio probabilmente di trovarsi su una struttura costiera Piuttosto che l'entroterra ci permette di sentirlo meno Ma è un problema che lo stesso attanaglia i nostri territori Io spero sempre che ci possa essere un forte e un presto ricambio generazionale Ma soprattutto che ci sia un aumento delle persone che possano fare queste attività professionali Dalla sanità alla sicurezza e il comando dei vigili si trasferisce in città? Il comando dei vigili rientra all'interno di uno di quei palazzi che vi ho detto verrà ristrutturata Quindi lo porteremo credo con molta probabilità Nella struttura che adesso, dove adesso appunto comunale Dove ci sono i servizi tecnici e anche la protezione civile Contestualmente, sempre in questo periodo, dovremo mettere in campo oltre 500 telecamere Su tutto il territorio comunale È un progetto molto ambizioso E spero di riuscire a farlo entro settembre-ottobre Invece il personale sotto organico? Diciamo che abbiamo avuto un buon ricambio In questo momento cerchiamo di fare in modo che da tutte le parti non manchi personale Non possiamo lamentarci Certamente nel periodo estivo i vigili sono sempre un po' sotto pressione Ce ne vorrebbero sempre di più Ci spostiamo sul lungomare perché un tratto il sindaco diventerà pedonale? Uno del tratto, che è il tratto centrale Ha percepito appunto questi finanziamenti del PNRR Dovrà avere questa caratteristica Dall'altra parte però noi abbiamo promosso con l'Ordine degli Architetti d'Ancuna Un progetto per quanto riguarda tutti i 14 chilometri del lungomare E' una progettazione dei vari settori, dei vari segmenti del lungomare Ognuno dei quali si caratterizzerà per una sua peculiarità Mi conferma che il lungomare è fermo alla conformazione degli anni 60-70? Sì, le confermo questo E le dico che da questo c'era una forte necessità di ricambiare un attimo proprio lo skyline del lungomare Un po' tutta la struttura E siccome siamo in un momento in cui la richiesta è abbastanza importante Non vogliamo rimanere indietro, soprattutto per le strutture private Che in qualche modo, bar, ristoranti Che invece sono molto più avanti della struttura pubblica E non possiamo non parlare della Rotonda Che quest'anno compie 90 anni Quindi insomma grandi festeggiamenti anche intorno a questo simbolo della città di Senigallia Sì, quest'anno ricorrono i 90 anni della creazione della Rotonda Anzi della conformazione come oggi li vedete Quindi ci saranno diversi eventi e da un punto di vista culturale Ripercorrendo quelle che sono state le tappe storiche Dalla prima inaugurazione fino poi all'inaugurazione degli anni 2000 Alla storia appunto della struttura E a una serie di spettacoli che sono collegati ovviamente alla Rotonda stessa Che ogni giorno diventa sempre più fulcro di quella che è la nostra attività turistica Ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta Siamo tornati, sono insieme al sindaco di Senigallia Massimo Livetti Sì, sindaco partiamo dal rilancio del centro storico e dalla nuova illuminazione della Rocca C'è un progetto complessivo per il centro? Sì Di riqualificazione? Sì, esattamente Cerchiamo di riqualificare e porre un attimo in attenzione alcuni monumenti La Rocca era troppo buia e quindi adesso attraverso un nuovo progetto Dovrebbero partire tra pochissimi lavori di una illuminazione della Rocca Che ci serve per rendere viva anche Piazza del Duca Dove ci sono delle nuove attività economiche Oltre questo ovviamente come dicevo prima Attraverso i fondi del PNRR recupereremo tre o quattro di quelli che sono Gli immobili più importanti che la città a livello storico E quindi cercheremo di essere ancora più attrattivi nella parte storica della città Le leggo un messaggio ma credo che abbia risposto anche prima Le attività economiche che non possono rimanere dove erano perché devastate Penso che si riferisca all'alluvione Non hanno diritto ai rimborsi in quanto non sistemano i locali? No, sotto questo aspetto qui non è esattamente così Non è necessaria la sistemazione a quello che ci hanno riferito In alcune situazioni sarebbe sufficiente A parte questa prima parte che è quella relativa a un anticipo Per aiutare chi dovrà poi risostenere o ha sostenuto già delle spese Nella seconda fase credo che ci sia sufficiente Cioè è sufficiente avere una perizia di quella che è la situazione Dei danni che si sono avuti E quindi ovviamente poi permettere lo spostamento Se questo è necessario Passiamo agli impianti sportivi Anche qua ci sono dei lavori importanti che andrete a eseguire Da dove partiamo? Partiamo dal Ponte Rosso che per noi è molto importante In quanto è una struttura storica che si trova a metà del lungomare Che aveva ospitato tennisti un tempo molto famosi Tipo Panatta, Pietrangeli e così Il progetto è già approvato? Il progetto è stato approvato Adesso va a bando Si tratta di un progetto di affidamento ai soggetti che poi lo gestiranno Noi speriamo appunto che questo possa prendere visita diciamo anche abbastanza velocemente Perché sono dei lavori importanti E noi era necessario ripulire quell'area In più stiamo rimettendo a posto una struttura sportiva che è appunto quella calcistica Per la quale abbiamo già destinato sui 700 mila euro Quindi con il rifacimento del manto erboso dove giocano soprattutto le giovanili e le reti Ricostruiamo due palestre per quanto poi potranno essere utilizzate anche dalla scuola E soprattutto il palascherma e una palestra in generale a Marzocca per oltre un milione Attengete alle casse comunali o avete intercettato fondi? Allora no, per gran parte sono in questo caso Sono proventi arrivanti dalle alienazioni o anche alle casse comunali Perché in questo momento possiamo avere una certa liquidità E quindi questo ci permette di poter usufruire anche i nostri denari Invece per il ponte Garibaldi sono arrivati i pareri necessari alla demolizione? Cinque giorni fa la sovrintendenza ci ha detto che potevamo demolirlo Quindi più che noi sostanzialmente il commissario So che ha dato incarico all'ANAS Questo significa che a giorni, quindi all'inizio di maggio Cominceranno gli studi per la posizionamento della passerella e dei lavori pedonali Che ci serve per spostare quelli che sono in sottoservizio al ponte E poi successivamente si proseguirà con l'abbattimento e la ricostruzione del ponte Per noi questo ponte Garibaldi è estremamente importante per le attività commerciali Perché spacca esattamente la città in due E sarà lungo più di 30 metri Dovrebbe essersi intorno ai 37 metri Un altro messaggio per lei Quando finirà lo stato di emergenza cosa farà a chi non può rientrare a casa? Con 5.000 euro non puliamo nemmeno l'abitazione E poi non ci fidiamo più dopo due alluvioni Giustamente è comprensibile lo sfogo di tutte quelle persone Che hanno viste devastate le proprie abitazioni E soprattutto hanno dovuto attendere tantissimo tempo Prima di vedere anche arrivare i primi ristori non sufficienti Noi partivamo da un'esperienza che era quella del 2014 Il 2014 il denaro arrivò nel 2017 Dopo tre anni Per gran parte andrò ad alcune aziende che avevano già le fatture Per chi aveva fatto operazioni in casa C'era mi sembra un storo di 130 euro a stanza Fatta eccezione di cucina e bagno Quindi si è rimasto quasi nulla L'anomalia è che chi all'epoca prese dei mutui per rimettere a posto casa Poi successivamente è stato ricolpito questa volta I 5.000 che sono arrivati sono solo un anticipo Rispetto a quello che il governo ha stanziato E che dovrebbero poi arrivare successivamente Come io dico spesso non parlo mai se non ho certezze di quelle che conosco Quindi non so quale e in quale percentuale verranno poi risarcite I danni che si sono avuti Fino a questo momento diciamo che le aspettative sono state mantenute Ritorniamo in zona mare Andiamo al porto per quanto riguarda il dragaggio Doveva si pensava insomma che potesse essere riutilizzato per il pascimento delle spiagge Perché appunto sono sostanze non inquinate Però ormai siamo in ritardo Dunque sul porto noi abbiamo un finanziamento di 800.000 euro E credo che lo faremo a breve Più che quello il ripascimento noi stiamo lavorando Affinché ci permettano soprattutto il dragaggio dei fiumi Lì c'è molta sabbia che sarebbe molto positiva per le nostre spiagge Anche perché purtroppo all'interno dei fiumi c'è un alto livello appunto di questo materiale molto elevato Abbiamo sentito sia il Ministero che la Regione E credo che questa sia una via che si sta perseguendo Solo che come giustamente lei dice il 29 aprile Quindi fra pochi giorni inizierà la stagione estiva Per cui fino a settembre non potremo utilizzare quel materiale Logicamente per il porto si parla di competenza regionale Invece in questo caso che illustrava l'Ecoil Comune può farsi avanti per cercare di... No, i fiumi sono sempre di competenza Il fiume Mise è sempre di competenza regionale Però potete richiedere le autorizzazioni Solo che in questo modo noi stiamo dicendo che se volessero potrebbero sempre conferirci questo materiale O conferirlo alle società che poi sostanzialmente per noi ci fanno il ripascimento delle spiagge La tassa di soggiorno l'avete aumentata Sindaco? No, la tassa di soggiorno è rimasta esattamente la stessa La Tare invece è tutto quello che riguarda i temuti Tutto è rimasto esattamente uguale rispetto agli altri anni Nonostante le difficoltà di cui parlavamo all'inizio Sì, nonostante questo Per le tasche del Comune, per i bilanci Siamo riusciti un attimino a evitare tutto questo Come dicevo all'inizio Attraverso un recupero di quelle che erano le somme vase E devo dire che ci sono state delle grosse sorprese per quanto riguardava gli importi che siamo riusciti a racimolare E anche quest'anno vi confronterete con le associazioni di categoria sulla bozza Che è la bozza di ordinanza che riguarda gli orari di chiusura dei bar in spiaggio A 21.30 al momento l'orario fissato Sì, diciamo che l'ordinanza più o meno ricalcherà quella dello scorso anno Quindi sono 21.30 Fatta eccezione di alcune serate che sono concordate con l'amministrazione comunale E valgono per tutti E che seguono appunto gli eventi che faremo al mare E dall'altra parte ci saranno invece un numero di serate Che poi ogni bar potrà utilizzare a suo piacimento Vogliamo parlare di qualche evento in programma Perché ormai il calendario sarà stato definito Sì, più o meno sì Quindi annunciamo ecco anche per tutti i telespettatori che non sono di Smigaglia Diciamo che i tradizionali eventi anche se quest'anno saranno particolarmente innovativi Cioè saranno rinnovati Che sono appunto il Summer Jamboree e l'X Master Che sono sostanzialmente due momenti particolarmente importanti per la nostra città A questi aggiungiamo Fosforo che viene anticipato nel mese di maggio Fosforo è un momento che viene dedicato soprattutto ai più giovani E alla scienza quindi alla ricerca che viene fatta appunto tutte Alle persone più giovani E poi sostanzialmente altri momenti particolari Come quello dedicato al Fado Piuttosto che quello dedicato alla nostra tradizione Per quanto riguarda le rievocazioni storiche e così via Invece per la festa della liberazione che si celebra domani Quali sono le iniziative in programma? Domani sostanzialmente noi partiremo molto Il nostro calendario è piuttosto mattutino Alle 9 depositeremo alcune corone dall'oro In tre o quattro punti della città Poi ci sarà la Santa Messa E il discorso in piazza con la banda E la lettura di alcune poesie da parte appunto di alcune signore Sindaco è stato un vero piacere averla nei nostri studi Anche perché sappiamo per fortuna che tanti telespettatori di Senigallia Insomma sono affezionati a queste emittente Quindi speriamo di poterla riavere ben presso nei nostri studi Grazie, buona serata a tutti Buona serata anche a tutti voi Un ringraziamento e regia a Cristiana Guerra e Riccardo Sora Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina Perché noi non faremo festa Per cui alle 7 ci sarà Massimo Fughetti Che leggerà insieme a voi i giornali Buona serata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti